Allora ciao ragazzi, oggi facciamo un altro video dedicato al Magnetic Fishing, Magnete e Corta. Allora siamo sul lago di Varese, siamo a Gambierate, proviamo a fare un paio di lanci dentro qua, voglio provare a fare un paio di lanci qui, poi in realtà girerò anche le altre zone, però oggi voglio dedicarmi a fare un paio di lanci qui su questa passarella qui. Vediamo un pochettino cosa riusciamo a trovare sotto qua con il Magnete, andiamo! Allora il Magnete, la corda da 30 metri, Mi sa che va giù subito a fondo qua, ci sono i sassi sotto, si aggancia il Magnete, si incastra tra i sassi. E via subito a fondo anche, vedo che va giù proprio bene subito qua anche, sa se se ne vedono, vedi sotto lì, è bello sassoso. Vediamo qua un tappo di uno spumante, spumante! Allora vediamo qua cosa c'è, vedo qualcosa che luccica, cos'è questa cosa qua? una barra di ferro, è un tondino di ferro, ok. Allora facciamo un recupero che ho visto in qualcosa, vediamo! non so che roba sia, sembra una chiave, lascio qua asciugare qua, lasciamo qua, e lasciamo qua insieme un'altra roba. Allora facciamo un'altra recupero che ho visto che c'è attaccato un qualcosa di lungo qua, che cacchio è una bacchetta di ferro, guarda! una bacchetta di ferro. Allora altro recupero, ho visto attaccato qualcosa, è un tappo, è un tappo, è un tappo, è un tappo! vediamo di che cos'è, che è sempre porettio! Mettiamole qui, i nostri ritrovamenti qua, così. Mi mettiamo qua, i nostri ritrovamenti di oggi. Due bacchette di ferro, un tappo, un tappo, un tappo, un chiodo lungo, il tappo dello spumante, questo che non so cosa sia, un pezzettino di ferro. Adesso facciamo questo recupero, dopo andiamo su quell'altra passarella che c'è lì, abbiamo un po' zona. Allora ci spostiamo, ci mettiamo su questa che è libera, l'altra l'anno occupata, ci mettiamo qua e vediamo un po'. Facciamo un paio di lanci qui prima che mi scade il parcometro. Facciamo un paio di lanci. E' molto caldo eh! Allora qua dentro... Allora qua dentro... Allora qua dentro tengo tutta la roba che ho provato, adesso metto dentro anche... Metto dentro anche questi... e recuperiamo qua. Qui è anche meno sassoso che dall'altra parte. Vediamo se... Abbiamo recuperato qualcosa anche qua. Mi sembra di sì, è un tappo. Ho già visto la zigrinatura. Due tappi! Vediamo... Poreti. Quanta birra Poreti hanno bevuto? Questo? Non si sa. Ok, allora qua abbiamo recuperato qualcosa di grosso. Vedo se non si è staccato... Si è staccato... Aspetta... Era lungo... Aspetta... Forse... A parte due tappi che vedo attaccati... Aspetta che recupero i tappi... Guarda quanti tappi che ci sono! Poreti! Questo cos'è? Succo la pera... Tennis... Questo non so cosa sia... Questo non so cos'è... Ecco... Forse l'ho presa... Si... L'ho preso... L'ho preso... L'ho preso... E' un cucchiaio mi sembra di vedere... Si... Vediamo... E' un cucchiaio... E' immancabilmente... Un tappo della birra... Della... Moretti... Ok... Allora... Recuperiamo... Ho visto un qualcosa di... Strano... Fammi vedere cos'è... Cacchio è questa cosa qua... E' una collana... Guarda... Aspetta che mi metto un po' il sole... E' una collana... Eh si... Guarda... Vedi... E' una collana... Ancora attaccata... Al... Guarda... Sono degli orecchini... Allora... Ragazzi... La pesca... Per oggi... E' conclusa... Qui dal... Lido di... Di Gavirate... Allora... Questa è la rifurtiva che abbiamo trovato... Allora... Cucchiaio... Un sacco di... Tappi della birra... Un... Tappo della pera... Lì... Abbiamo trovato... Questo vasetto qua... Che è della marmellata della Zueg... Questa cosa qua... Che voglio vedere che cos'è... Bene... A casa... E' caduto sotto lì... Adesso lo prendo... Poi... Questo tubo qui... Abbiamo trovato... Questo amo qua... Due di questi ami qua... Doppi... E poi... Abbiamo trovato... Bellissimo... Questi... Orecchini... Guarda qua... Ancora attaccati... Qua qualche innamorato... Che... Voleva regalargli... Chi orecchina era amorosa... Ma... Ovviamente... Lei... Non ha voluto... E li ha buttati nel lago... Ok... E recuperiamo noi... Tappi dello spumante... Tappi dello spumante... Tappi dello spumante... Qua un altro rampino... Per andare a pescare... Qua un... Un... Un chiodo... Dovrebbe essere un chiodo... Si... Dice sulla punta... Davanti... Poi... Questa barra qua... Abbiamo un tondino in metallo... Allora ragazzi... Io qui dal Lido di Galliratte... Vi saluto... Ci vediamo al prossimo video... Con il... Magnetic Fishing... Con il... Con il Magnete... Adesso voglio provare a recuperare... Una corta un pochettino più lunga... E se riesco... Prendo anche il Magnete... Un giancio laterale... Che riesci di più... A... Andare a sfioro... Con il fondo... Del... Lago... E poi anche più grande... Dovrebbe essere... 67 mm di diametro... Va bene ragazzi... Io vi saluto... Mi raccomando... Iscrivetevi al canale... Guardatevi sotto qua... Nella descrizione... Che vi lascio un po' di link... Se vi possono interessare... Seguitevi su Facebook... Instagram... E... Anche su TikTok... Che intanto metto su qualche... Spezzone di video su TikTok... Per il resto... Niente... Ciao... Vado a mangiare... Ci vediamo nella prossima... Ciao ragazzi... Ciao ciao ciao... Ciao ciao... 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 Ciao ciao... 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 Grazie.